Dopo una vita di lavoro viene il momento di godersi in pace un ambiente tranquillo immerso nel verde dove si possa a caso mai osservare lo spettacolo degli altri al lavoro facciamo in modo che tutto sia sempre in ordine nel giardino i vialetti puliti l'erba verde e delle fioriture rigogliose il rispetto delle persone è fondamentale e fa parte del nostro stile del nostro modo di essere e di lavorare da sempre perciò cerchiamo di utilizzare attrezzature elettriche in modo da ridurre al minimo le emissioni di rumore il nostro risultato si vede dallo sguardo delle persone che incontriamo